Oggi esploreremo ciò che le stelle hanno in serbo per voi. Che siate curiosi di scoprire cosa vi riserva il futuro o semplicemente alla ricerca di un po' di ispirazione, siete nel posto giusto. Prendetevi un momento per rilassarvi e vediamo insieme cosa ci dicono gli astri per la giornata di oggi. Segno a liete. Le sensazioni dominano la giornata di oggi, in un periodo segnato da novità e incontri memorabili che potrebbero alterare il corso della tua vita. Chi cerca la propria anima gemella potrebbe finalmente incontrare la persona giusta, capace di far accelerare i battiti del cuore. Sul fronte economico, è necessario un aggiustamento, poiché le spese superano le entrate, che non sono mai sufficienti. Anche chi gestisce un'impresa dovrà riesaminare i conti per evitare future difficoltà. Portare avanti le tue idee richiederà sacrifici e sarà fonte di conflitti. non solo sul lavoro. Giornata sotto il segno della fortuna. Questo martedì vedrai la tua relazione ricevere un'impennata, nutrite da una fresca vitalità. Sentirai di avere il controllo sul tuo cuore. Transiti generosi ti poranno in armonia perfetta con un'atmosfera gaia e affettuosa, da condividere con la persona amata. Per coloro che sono single, la fortuna sarà al tuo fianco tutto il giorno. La tua determinazione ti renderà più deciso del solito. Con l'aiuto di Venere, finalmente alleata, affronterai subito ciò che ti piace. Nel lavoro, dimostrerai responsabilità nel gestire le finanze, pianificando attentamente il budget. La situazione economica a lungo termine sarà favorevole. Segno Toro Questo secondo martedì di giugno regalerà a molti di voi momenti incantevoli. Preparsi a vivere emozioni positive nella tua relazione. Le stelle porteranno nuove ondate di passione e romantico rinnovato. Focalizzate sulla comprensione profonda di te stesso per rafforzare la tua forza interiore. Se sei single, cerca nuove avventure e mantieni la serenità. La spontaneità ti renderà irrinunciabile, le stelle ti forniranno l'energia necessaria per non fallire mai. Nel lavoro, mostri attenzione ai dettagli. Un sorriso, un complimento o un gesto di supporto creeranno un ambiente positivo. In amore, il trasporto del passato sembra essersi affievolito, forse è il momento di un confronto serio con il partner per comprendere cosa non va, soprattutto in coppie che durano da tempo. L'oroscopo suggerisce un'evoluzione o un cambiamento per il tuo benessere personale. Non sei più disposto a trascinare situazioni diventate monotone e poco stimolanti. Anche sul lavoro, dovrai tenere a bada l'irritazione, soprattutto se lavori accanto a colleghi o superiori che cercano di sminuirti. Cerca di conservare le energie e di evitare eccessi. Segno gemelli. L'oroscopo di oggi preannuncia che varie relazioni amorose saranno travolte da onde di passione, portando felicità e soddisfazione a molti di voi. Potrebbe essere il momento giusto per fare un piccolo passo avanti nella coppia, specialmente se recentemente avete riscontrato difficoltà. Se sei single, abbandona la monotonia. Scegli esperienze più dinamiche invece di giornate noiose. Tra oggi e domani, il tuo fascino sarà esplosivo, sarai attraente a tutti gli occhi. Nel lavoro, preparati a fronteggiare sfide importanti che potrebbero comportare responsabilità gravose, ma le ricompense non mancheranno. Venere nel tuo segno potrebbe favorire incontri stimolanti oggi. Potresti imbattersi in qualcuno conosciuto durante un viaggio lontano. In amore, dovresti cercare di recuperare un po' di intimità per salvare una relazione sentimentale che si trascina da tempo. Questo è un periodo in cui anche dormire diventa complicato, forse a causa dei troppi pensieri. Il tuo umore è variabile in questo momento, e questo non ti aiuta a migliorare relazioni che si trascinano da tempo. Segno cancro. Non è semplice avere un confronto serio e produttivo con te stesso, soprattutto in questa fase in cui nulla sembra andare per il verso giusto. Hai voglia di sfogarti e di dire tutto ciò che non va a chi ti ha trattato male o con indifferenza. Secondo l'oroscopo di oggi, se devi prendere importanti decisioni lavorative, aspetta almeno il 17, quando avrai le idee più chiare. L'attività fisica ti aiuterà a stare meglio con te stesso e ad avere un rapporto migliore con il tuo corpo. Un martedì meno intensivo, dove è fondamentale controllare gli impulsi e evitare la possessività eccessiva per invertire la tendenza. Con chiarezza di mente, supererai ogni intoppo amoroso meno piacevole, cercando soluzioni per migliorare il rapporto. In singolo, potresti desiderare la solitudine, trovare pace e serenità richiede armonia con te stesso e il tuo mondo interiore. Sfrutta i momenti positivi per nutrire il tuo spirito con un nuovo amore. Se non sei pronto a fare il primo passo, attendi tranquillamente. Nel lavoro, ti attendono nuove sfide, dedica il tempo necessario a valutare le opzioni e prendere decisioni ponderate. Segno Leone Il transito della luna nel tuo segno renderà i primi giorni della settimana particolarmente produttivi. Sarà possibile ottenere chiarimenti, soprattutto in materia di amore e sentimenti. Sul lavoro, chi è impegnato in nuovi progetti o ha recentemente avviato un'attività lavorativa sarà favorito. Tuttavia, dovrai affrontare Marte in dissonanza, che potrebbe seminare ostacoli lungo il tuo cammino. Non trascurare la tua salute fisica. Questa potrebbe essere una giornata preziosa per scoprire ciò che meglio si addice a te e all'altro. Il tuo partner ti sosterrà nei tuoi pensieri, e insieme raggiungerete un equilibrio che vi donerà dolcezza e una serata indimenticabile. Se sei single, perdersi nell'esplorazione del mondo e delle sue meraviglie sarà il tuo obiettivo. Sarai curioso e aperto alle nuove culture, tradizioni e destinazioni. Partirai con uno spirito avventuroso e un cuore gentile, arricchendo la tua vita con esperienze memorabili e incontri significativi. Al lavoro, una serie di risultati significativi conseguiti rapidamente ti riempiranno di entusiasmo e ti daranno l'energia per intraprendere nuove avventure. Segno Vergine Grazie all'influenza della luna, i primi giorni della settimana ti porteranno un'energia notevolmente maggiore. Alcuni impegni, sia in amore che al lavoro, richiederanno la tua attenzione. Potresti sottovalutare una situazione più seria del previsto, che necessita di maggiori sforzi da parte tua. Marte in toro ti aiuterà a recuperare sul piano psicofisico. L'oroscopo di martedì 11 giugno predice un interessante susseguirsi di emozioni intense. Dopo un inizio piuttosto monotono, le tue endorfine raggiungeranno il picco, creando scintille autentiche che ti circonderanno di un'esplosione di sentimenti. Se sei single, accetta il passato senza pentimenti né ramarichi. Guarda avanti con obiettività, trarre insegnamenti dagli errori e apprezzare i momenti di gioia. Persone importanti continueranno a svolgere un ruolo cruciale nella tua vita. Nel campo professionale, tutto sembra stabilizzarsi per coloro che godono di un lavoro sicuro o hanno deciso il loro percorso definitivo. Segno bilancia Questa settimana si prospetta molto promettente sotto molti aspetti, in particolare sul fronte professionale e nelle relazioni interpersonali. Incontri stimolanti sono in arrivo, che ti aiuteranno a ritrovare un certo ottimismo. Il fine settimana sarà caratterizzato da belle emozioni e dalla possibilità di incontrare qualcuno di nuovo, che potrebbe cambiare positivamente la tua vita. Il prossimo martedì sarà piuttosto pacifico per voi. Nell'amore, agisci con discrezione nella tua relazione, operando dietro le quinte per mantenere un'atmosfera serena. Evita di esacerbare le differenze con il tuo partner. Se possibile, cerca di fare piccoli ma graditi complimenti alla persona cara, spesso fa meraviglie. Se sei singolo e innamorato, smetti di procrastinare e dichiara i tuoi sentimenti al più presto. Sul lavoro, evita situazioni impegnative se non sei sicuro dei risultati, è saggio rischiare, ma non gettarsi in avventure disperate. Segno scorpione La luna in opposizione potrebbe causare problemi in varie aree. Non è un periodo negativo per te, anche se ci sono ancora situazioni da risolvere. Secondo l'oroscopo di oggi, qualcuno potrebbe avere un importante appuntamento di lavoro, che potrebbe determinare il tuo futuro. È meglio prepararsi bene, evitando di trascurare i dettagli. Per chiarimenti in amore, è preferibile puntare al centro della settimana. Ti aspetta un martedì meno favorevole, caratterizzato da un'atmosfera oppressiva che richiede molta attenzione. Nel tuo rapporto amoroso, potresti apparire infastidito, al punto che il tuo partner o i familiari potrebbero chiederti se hai problemi. Fai attenzione a non esagerare con le reazioni brusche, altrimenti rischi l'isolamento. Se sei single, il pessimismo potrebbe amplificare situazioni che in realtà non sono così gravi. Cerca di mantenere alto il morale, esci, distendi la mente e trascorri del tempo con gli amici. Nel lavoro, procedi con cautela. Evita di farti sopraffare dalle emozioni e non trasformi in montagne i problemi. Con un po' di positività, ogni difficoltà può essere superata. Segno sagittario La luna in leone vi donerà una nuova energia, risollevandovi dopo un periodo di stanchezza. Se avete vissuto momenti di tensione e negatività, è giunto il momento di fare chiarezza con chi vi circonda. Mercoledì e giovedì potrebbero essere giorni delicati, con la luna contraria che potrebbe portare fra intendimenti o discussioni in famiglia o al lavoro. Tuttavia, recupererete nel fine settimana. Ti attende una giornata serena e piena di gioia. Le previsioni indicano un martedì immerso nella dolce calma. È il momento ideale per conversare e connetterti con coloro che ti circondano. L'influenza celeste incoraggia a correre rischi più grandi nel nome dell'amore, lascia che la tua immaginazione voli alto e sfrutta ogni opportunità a tua disposizione. Non tardare, è giunto il momento di agire. Se sei single, non accontentarti delle tue conquiste precedenti. Infondi passione e romanticismo nella tua vita per conservare ciò che hai guadagnato. Nel lavoro, il tuo umore brillante e l'ottimismo saranno le tue armi più potenti, sfruttale in ogni aspetto della tua attività. Segno Capricorno A metà settimana, la luna sarà favorevole e Marte vi sosterrà positivamente. Chi avrà un colloquio di lavoro o un incontro importante potrà godere di momenti entusiasmanti. Anche se non mancheranno ostacoli, tutto sembra volgere al meglio. Sabato e domenica potrebbero emergere complicazioni nei rapporti familiari o con il partner cercate di evitare reazioni impulsive se qualcuno si oppone alle vostre decisioni. Martedì sembra portare buone opportunità. Specialmente nelle relazioni interpersonali. Anche se potresti oscillare tra dolcezza e momenti più aspri, le difficoltà incontrate saranno facilmente superabili. Nell'amore, dedica più tempo al tuo partner scoprite un hobby in comune o esplorate nuove avventure per rafforzare il vostro legame. Se sei single e ti senti intrappolato in situazioni poco desiderabili, non temere, hai già le risorse per uscirne trionfalmente. La tua determinazione e fascino ti permetteranno di conquistare chi ti piace. Nel lavoro, sarà una giornata ambiziosa, avrai la forza per raggiungere un obiettivo importante. Concentrati sui tuoi compiti e mira in alto. Segno Acquario Con la luna in opposizione, il vostro spirito ribelle sarà accentuato. Non siete più disposti a tollerare situazioni che durano da troppo tempo o che vanno contro i vostri interessi. Fortunatamente, da mercoledì ritroverete serenità e chiarezza. La settimana sarà particolarmente produttiva per chi sta lavorando su un progetto ambizioso. Portate avanti le vostre idee con determinazione, senza lasciarvi influenzare. Una giornata piuttosto propizia ti aspetta. Profitta di questa opportunità per concederti del tempo per te stesso, cogliendo i vantaggi e gli effetti positivi che questo porta. Nell'amore, riserva un momento per coloro che contano, ottenendo certamente gratitudine in cambio. Nelle coppie, sii paziente, ricorda che l'aspettativa può produrre miracoli. Riflettilo. Se sei single, incontrerai persone piacevoli e riuscirai ad affascinare qualcuno che ti stimola particolarmente. La tua capacità di risolvere problemi complessi sarà notevole sul posto di lavoro. Sfrutta l'astrologia a tuo vantaggio per fare progressi, anche se richiederà audacia. Segno pesci. Questo periodo di bassa energia continua, richiedendo prudenza e pazienza. Dovrete aspettare almeno il giorno 17 per notare miglioramenti. La luna in opposizione potrebbe ancora causare disagi nelle relazioni interpersonali e malintesi sul lavoro. Tuttavia, durante il weekend, le stelle saranno più favorevoli, soprattutto per l'amore, che rappresenta la vostra isola felice, specialmente per le giovani coppie e quelle appena formate. L'oroscopo di martedì 11 giugno prefigura un periodo abbastanza impegnativo. Anche se alcune situazioni potrebbero non seguire il tuo desiderio, ciò potrebbe avere un lato positivo. Nel campo amoroso, le stelle disarmoniche possono provocare conflitti. Cerca di comunicare con il tuo partner, ma la presenza scomoda di qualcuno potrebbe complicare le cose. Se sei singolo e hai paura di avvicinarti o aprire il tuo cuore a qualcuno, rifletti se continuare o interrompere questa possibilità all'inizio. Rilassati, lascia che le cose accadano naturalmente. Nel lavoro, l'istinto e l'intuizione saranno cruciali, soprattutto nelle situazioni complesse. Fidi nella tua capacità di analizzare e, se hai dubbi, non esitare a cercare aiuto.